La Sardegna è la terza regione in Italia in cui l'occupazione tra dipendenti e indipendenti nel 2021 è aumentata maggiormente rispetto al 2020, anche se il divario rispetto al 2019 rimane ancora profondo. E' quanto emerge dai numeri dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato i dati Istat. Nell'isola nel 2021 i dipendenti crescono del 2,5% rispetto al 2020 11.000 unità, attestandosi sulle 563.000 unità. Rispetto al 2019 però l'andamento risulta in calo del 3,2%, segnando un gap di 19.000 posti di lavoro. Il prolungamento della guerra in Ucraina, l'amplificazione della crisi energetica e il persistere delle criticità nel reperimento e nei prezzi delle materie prime, ha detto Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, potrebbero interrompere il percorso di recupero del mercato del lavoro dopo la recessione causata dalla pandemia. Ci auguriamo non sia così. I dati dimostrano che la nostra regione, nonostante un gap occupazionale da recuperare nei confronti del 2019, risulta più resiliente rispetto ad altre regioni d'Italia. Più preoccupante è la situazione della disoccupazione. Nel 2019 era del 14,9%, nel 2020 è calata al 13,2%, per risalire nel 2021 al 13,5%. A questi dati bisogna aggiungere quelli della inoccupazione, che nel 2019 era del 36,6%, cresciuta al 40,2% nel 2020 e calata al 37,9% nel 2021. Guardando le province in valori assoluti, nel 2021 a Cagliari si contano 160 mila occupati, di cui 73 mila donne, 15 mila disoccupati e 86 mila inattivi. A Nuoro gli occupati erano 72 mila, di cui 31 mila donne, con 6 mila disoccupati e 51 mila inattivi. A Oristano 50 mila occupati, di cui 21 mila donne, con 9 mila disoccupati e 38 mila inattivi. A Sassari Gallura gli occupati sono 166 mila, di cui 69 mila donne, con 25 mila disoccupati e 125 mila inattivi. Nel Sul Sardegna, infine, gli occupati sono 114 mila, di cui 46 mila donne, con 17 mila disoccupati e 85 mila inattivi.